Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova area pedonale Duomo. Si comincia con la collocazione della segnaletica e dei primi elementi di arredo urbano. Sul posto gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico. Molti messinesi infatti ancora non erano a conoscenza del nuovo provvedimento voluto dalla giunta a Corinti ed indirizzato al miglioramento della vivibilità e dalla riqualificazione del centro cittadino. Chiusa al transito l'arteria che collega il corso Cavour alla via Cesare Battisti compreso un tratto della primo settembre. L'accesso nell'area sarà consentito soltanto ai mezzi autorizzati e tra questi bus turistici e le autovetture dei residenti. Ma Palazzo Zanca a sentire questa mattina chi vive all'interno della nuova isola pedonale non avrebbe ancora dato disposizione per il rilascio dei pass. Un sistema di telecamere controllerà i varchi. Quelli di oggi sono i primi provvedimenti di un progetto più complesso ed articolato che mira ad estendere ulteriormente le limitazioni alla circolazione viaria nei pressi della cattedrale. L'assessore alla mobilità urbana che Dano Cacciola questa volta va dritto per la sua strada. Dalla sua parte c'è il piano urbano del traffico che prevede quest'area pedonale. Non dovrebbero esserci dunque particolari opposizioni come quelle registrate in consiglio comunale per piazza Cairoli.